Buonasera ragazzi, buonasera a tutti Scusate, c'è veramente un caldo bestiale Come potete vedere ragazzi, alle mie spalle c'è un nuovo logo Un logo che si chiama Live 91 Football Questo video l'ho caricato su tutti e tre i miei canali principali Quindi, questo progetto Live 91 Football nasce già da un po' Perché su Live 91 Riserva, Spazio Football, c'era appunto una grossa fetta dedicata al mondo del calcio Però adesso io a cosa ho pensato, al momento in cui Live 91 è diventato un brand vero e proprio Per me lo dire, sto cercando di farlo diventare un marchio proprio ufficiale e tutto registrato O mi sono inventato di creare appunto un canale dedito solo e esclusivamente al calcio Il canale è in fase di progettazione, non è ancora uscito per cui non trovate ancora nulla Vi sto spoilerando solamente il progetto Quindi restate connessi qui e sui miei social, nella descrizione del video li trovate Per sapere quando appunto lancerò questo canale che parlerà a 360 gradi solo di calcio Anche internazionale, quindi non è solo Juve, Inter, Milan, ma è di tutto il calcio Serie A, Premier, Ligan, tutto Rimanete collegati ragazzi Grazie a tutti